Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qua con Tomb Raider Definitive Edition Allora ieri ho fatto un mio pasticcio Non ho potuto registrare perché ho cancellato l'account di Steam Di come faccio da rifuoco? Premi e no Allora Ok qua selezionare le armi Il testo Ma devo capire? Allora Stavo dicendo Praticamente ho cancellato per sbaglio l'account Cioè non l'account voglio dire proprio Steam Poi ho cancellato tutti i giochi Cioè quindi un macello Un macello un macello un macello Ok adesso dobbiamo andare di là Perfetto Intanto Ti ringrazio ancora 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 tanto perché Perché comunque ho visto che il video del pad Cioè siamo arrivati a 370 visualizzazioni Cosa che non mi sarei mai aspettato Oh Cos'è qua questo? Bastardi No Davvero incredibile Tu Che conosco Sono simboli rituali La figura femminile mi colpisce molto È stata realizzata di recente Di sicuro dagli isolanti Che a giudicare dai reliti sono giunti qui come noi Naufragando Straordinario Speriamo di non diventare assassini come loro Prova ad azionare quell'altro Cioè ma tu con i lupi che ti stanno per mangiare il culo Manca una vaniglia Insieme Non mi cagate addosso Niente da fare Devo trovare qualcosa di più robusto per girare Qui intorno ci sarà qualcosa di utile Incredibile Questi simboli Oppala Funzionerà Me ne servono altri Allora Non so che cosa ho preso Comunque abbiamo fatto anche Scorta di cibo E quant'altro Qua dentro c'è qualcosa Ma perché dei naufraghi Dovrebbero venerare Una sicca divinità giapponese Ah devo potenziare la piccozza Ok Quindi No Andiamo qua No E la oh ma che cazzo via 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 oh socio dammi una mano socio penso che se ne andranno col fuoco ah lo ce l'ho allora 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 Ancora un po' Dai, dai, riusci Bene, dovrebbero bastare Sistemiamo questa vettura Dai, 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 bravo Dai, intuimati Forse devo andare qua, allora? Eh, materiali Ok Perfetto Rinforzo Ok Allora Rinforzo Rinforzo la più cosa rendendola utilizzabile per lezionare i meccanismi Ok Quindi adesso dovrebbe aprirmi anche questo Vai, 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 vai Vai, ingrè Quindi? Tutto sto casino per cosa? Ma l'animale di mortacci tua Allora Ti sei Lara Proviamo ad aprirlo Proviamoci, Whitman Io sono pronto Ai Dio Grande Ah, pensavo che minchia lo tenevi su con una mano Dai I uomini hanno ancora molto da imparare Sul fondo Ora parli come mio padre Ti aspettano scoperte eccezionali Se riusciremo a raccontare Soprattutto Incredibile Ehi, Miko Ma guarda La ciotola Le candele Perché continuano a venerarla? Quest'isola doveva far parte di Yamatai Avevi ragione, Lara Il regno perduto È come trovare Atlantide Con la sola differenza che è reale Non è un mito No Questa è una miniera d'oro Venite Presto I vostri amici stanno male Già, forse a causa loro Indietro Non c'è da fidarsi Che che è? Sei ancora armato? Non voglio guai No Vi seguiremo No Ma solo se promettete che ci condurrete dal vostro capo Che stai facendo? Taci Ci penso io No No Eccoli No 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 Ma se li ammazzavamo Cristo Chi siete? Cosa volete da noi? Tica Laro Lassate li stare vi prego Ti ha scazao Ehi Tieni giù le mani Tieni giù le mani Tieni giù le mani Mastardo Ok Ok Eccola Si vabbè ma dai Ma mi fai Mi girano già gli zebedei Mi girano già gli zebedei Eh che cazzo di gioco di merda quando fanno così veramente Ehi prendi la prigioniera Piano Va bene subito Piano Dio 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 Vai, 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 vai di qua dentro Oh cazzo, non scorreggiare perché qua cade tutta la capanna, mi raccomando Niente, non ha trovato E' baffanculo, dai E' baffanculo, dai E' baffanculo, dai la parada che ne sceglie poverdi mezzo papaculo Mi to' crema Devi anche 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 Sì, sì, sì. Aspetta ragazzi, vediamo di passare almeno a questo punto Oh merda l'hanno ammattato, è lui E santa miseria Non so Vieni subito fuori Non puoi sfuggirci È armata Ai ui Bastardi Ah, c'è il fuoco Che cazzo è difficile sparare? Con questo Tomb Raider qua Non so Non so Non so Non so Non so Non so Perfetto ragazzi Per oggi Basta così E Perché voglio portarvi più di un video oggi Quindi Stacco poi riattacco subito con la terza parte Se il video vi è piaciuto lasciatemi un commentino Se volete anche un like non guasta mai Seguitemi sulla pagina Facebook e sul canale sicuramente E a breve avrò un qualcosa per voi che vi svolerò piano piano Grazie Grazie Grazie